Un saluto a tutti da Riccardo Cristiano. Il 22 agosto lunedì alle ore 18 e 30 presso la tenuta Bocchineri a Rogliano presenterò il mio libro La compagnia del lupo e la quarantesima porta. Vi invito a venire non solo per la presentazione ma anche perché la tenuta Bocchineri è l'unica nel sud Italia ad avere una casa sull'albero. È bellissima, ci sono stato, è veramente un'esperienza meravigliosa ma non solo, c'è il museo della civiltà contadina, ci sono dei percorsi naturalistici e degli animali molto particolari quelli che state vedendo in sovrimpressione nel video. Quindi vi invito a visitarla questa tenuta, davvero una perla all'interno di un contesto naturalistico unico e ovviamente vi invito anche a venire a visitare la mia presentazione, insomma la compagnia del lupo e la quarantesima porta 22 agosto alle ore 18 e 30 presso la tenuta Bocchineri a Rogliano. Vi aspetto! Grazie a tutti!